Padovano, ieri vertice in prefettura per parlare della nuova emergenza a dragaggio del fiume di Pescara. Si opererà entro dieci giorni per una quantità però bassa di sabbia. Voi invece chiedete che sia fatto un progetto più ad ampio raggio? Su quell'area va tolto almeno 100.000 metri cubi perché serve per la navigazione interna, perché serve per consentire al rientro delle barche una sicurezza nel rientro in porto e perché poi deve servire per maggio, se vogliamo veramente, riaprire il porto di Pescara collegandolo con i paesi della Croazia, con i Balcani. Tengo a precisare, mi sono sgolato a dirlo, vedo che si fanno delle riunioni e da queste riunioni non esce mai quella parolina magica che deve essere svuotata da dopodomani quella vasca di colmate. A dire il vero se ne è parlato anche ieri? Se ne è parlato ma se ne parla a bassa voce. Quel materiale si doveva smaltire entro il 1 dicembre 2017, poi prorogato al 2018, riprorogato al 2019. Basta prorogare. Quello è un materiale compatibile per i comuni che hanno bisogno del ripacimento sommerso e che servirebbe di conseguenza a consentire l'opera di dragaggio. Ma voglio aggiungere, io non sono un ingegnere idraulico, né sono un esperto del settore. Sono un semplice portatore di interesse. Ma non si può fare, dragare e posizionare l'opera di smaltimento appena dove è stata aperta la diga forania? Potrebbe essere anche questa una soluzione perché siamo all'interno dell'area portuale. Giustamente ci sono i titolati a partecipare al tavolo. Certamente la gente che va in mare, cioè i portatori di interesse, i pescatori, sono quelli più a rischio. E affacciatevi un attimo in banchina e andate a vedere come è stamattina la banchina. Le barche ormeggiate a pacchetto e una parte della banchina vuota perché purtroppo i fondali sono quelli che sono. E che in un momento così particolare della stagione invernale dove ci sono le grandi piogge, il porto di Pescara è ricco di sedimenti sabbiosi che non riescono ad essere smaltiti. Grazie a tutti.